Hola Lucia D'Ores e commissari tecnici di squadre di calcetto di poliziotti Vabbè, sì, ok Ben ritrovati qui su Atmrkambatnamanknight E mi sta venendo una tosse della balora per via del ventilatore Portate pazienza, ma fa un caldo boia Allora, non perdiamo altro tempo nel cinci rischiare Foti schiattare il metal detector, mi spareranno? Posso bere un bicchier d'acqua? No Posso parlare con qualcuno che sia una persona semiseria? Oh, salva Mi offre qualcosa da barà? Mi sentite? No Ammazza Sono talmente preimpostati gli spostamenti dei personaggi che mi ha spostato a forza Oh, salve Vabbè, selezioniamo missioni, che almeno ci leviamo lo scritto dalle palle Usa la schermata di selezione missioni per scegliere il tipo del prossimo obiettivo Gotham È il tuo prossimo obiettivo Quando un nuovo supercriminale o una missione vengono localizzati, verranno automaticamente aggiunti a questa schermata Se vuoi tornare a dare la caccia allo spavente Bassari, seleziona questa icona Ok Allora Ok Ok E ok Io darei la precedenza a loro Ok Non posso tenere quel pipottino lì dell'enigmista Va bene Ora dobbiamo capire anche come far andarcene dall'altra zona di polizia Conoce il comune a molti criminali Allora Oh, qui c'è Forse la sala degli interrogatori No 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 Qui stanno coordinando Ok Quindi potrei provare a passare dalla parte appunto del Metal Detector Exit Troverò quei pompieri scomparsi C'è scritto, c'è scritto Non l'ho mai visto così da vicino Vuoi vedere il mio pipistrello? Facciamo il tifo per te Batman, siamo tutti con te No, forse Owens della tavola calda ti vuole morto Ma gli altri, tutti con te Ah, ok Lo sai, finché quel simbolo si staglierà nel cielo Ci sarà speranza Terro presente di Owens, eh? Grazie, buon rendere, arrivederci Ok Già, poveraccio Non riuscirà a darsi pace quando scoprirà cosa ha fatto in quella tavola calda Ah, ok, è quello Owens, certo, che scemo Owens è un bravo poliziotto, ce la mette tutta Non merita questo Scusate, ma faceva fico Eh Batman, lo spaventapasseri ti è sfuggito? Gli hai rotto il polso senza motivo Ah, mi sembrava di aver ti rivisito da qualche altra parte Per te e tutti i tuoi amici Stanotte distruggeremo finalmente Batman Ti piacerebbe, ciccio Ok Infermeria Oh, aspetta Devo tornare di nuovo là fuori Non muoverti da qui Ok, non lo so Non so se devo parlare effettivamente con tutti Me ne occuperò a tempo debito Batman, ci tenevo solo a dirti che è bello averti tra noi E beh, fai un po' te Va bene Poi mi occuperò anche di questa cosa Allora Eh, ti piacerebbe farci un giro? Buonasera, signor Wayne Spero che l'auto risponda alle sue elevate aspettative In realtà, Lucius, mi sembra un galletto Immaginavo che avrebbe detto qualcosa del genere Mi dia un attimo e le attiverò subito il post bruciatore Grazie mille, Lucius Adesso è rimasto Oh, grazie loro Voglio ringraziarmi, signor Wayne Cerchi solo di non schiantarsi fuori strada Dovrei presto avere qualche altro upgrade Stiamo per assistere alla figata Ce la faccio alla figata delle figate Pronti? Pronti? Vado? Mi speravo di una cosa la burnout Va bene, ok Abbiamo finito di cincischiare e farci le gare di rutti con la Batmobile Io ho già vinto Ho svuotato la città con una piazza di rossina E un paio di parole minaccio Siamo arrivati Ok 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 Vai così Perfetto No, perfetto Un belostrica Sei morto No, mannaggia a te Ok Perfetto Salve, signor pompiere Perfetto No C'è una roba intravestita E non sarebbe neanche la prima volta Ci hanno tirati fuori uno a uno E separati Portati via Ti prego Ci uccideranno Salverò i tuoi uomini Aspetta qui Mando un agente di polizia a prenderti Ok Neanche Spider-Man proprio Guarda Allora Non so perché Ma qui sopra Come dei vaghi presentimenti Massimo rispetto allo spavento Passericcio Dato le chiavi dell'intera città Ok Allora Quindi ora dobbiamo selezionare nuovamente La missione dei pompieri Giusto? I rivoltosi hanno preso in ostaggio i pompieri E si sono dati alla macchia Darò loro la caccia La pagheranno cara Tutti quanti Però intanto Non abbiamo Assolutamente Il tracciato Delle altre zone Dove ci sono i pompieri Quindi Quindi Ultima posizione dell'enigmista Vediamo un po' Andiamo a risolvere gli enigmi Ciao Cicciu Mi piace pipistrellarmela così Sì è tutto sommato Vediamo un po' È una figata Chiamare la batmobile così Scusate Lo so sono un bambinone Quando faccio queste cose Oh merda Batman Faccio uscire di qui Aspetta Batman Faccio uscire di qui Vabbè Posso parcheggiare Oh Ma salve detective Sì sono io La tua nemesi più temibile L'enigmista Congratulazioni Te le devo Sei arrivato in anticipo Per la nuova generazione Dei miei enigmi Temo che i dettagli Del mio piano Dovranno rimanere segreti Almeno per il momento Ma non vedo nulla di male Nel premiare Quell'innocuo varlume D'iniziativa Che hai mostrato Con una sbirciatina O un'anteprima Se vuoi Dei simpatici rompicapi Che ho in serbo per te Grazie caro E li devo risolvere in macchina Bene detective Si comincia Stai pensato? Ecco la storia Della comprensione Un meccanismo Che ho calibrato Perchè risponda A un impulso radar Estremamente preciso Ti darò il codice decriptato Cavaliero scuro Oh ma prima Ripassiamo brevemente Le regole per i divertimenti Di questa notte Regola prima Ti rivolgerai a me Soltanto come Enigmista Enigmista O Signor Enigma Signore Altrimenti detective Mi aspetto che tu mantengas Su È fantastico Regola seconda Tutti i guanti Ok 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 Verrai colto a utilizzarli Verrai subito Espulso dal percorso Regola terza L'uso di equipaggiamento Nuova concezione Per risolvere Enigmi È severamente proibito Conosco bene Il contenuto Della tua cintura Detective Ed esaminerò Con il massimo sospetto Eventuali improvvise Aggiunte Nel corso Della serata Regola quarta In caso di incendio Inondazione Ti guiderò Direttamente All'uscita D'emergenza Più vicina Sempre che tu Non sia troppo orgoglioso Per seguire Le mie instruzioni È fantastico Regola quinta Non si chiedono Indizi Regola sesta Qualora preso Dalla esperazione Io scelga Di fornirti Un indizio Suggerimento Insulto Dal significato Nascosto O altro tipo Di assistenza Non chiederai Alcun ulteriore Chiarimento Ma piuttosto Mi ringrazierai Per la cortese Generosità Attenendoti Pedissequamente Alle forme Di cortesia Di cui Alla regola Prima Regola settima Oh miseria Verranno concesse A mia discrezione E se ci trovassimo In un momento Cruciale Di questo viaggio Verso la presa Di coscienza E la sconfitta Mi auguro Tu riesca A non fartela Sotto Regola ottava Ecco Ogni Incidente Dovuto direttamente All'osservanza Della regola settima Sarà considerato Soltanto Di tua responsabilità Regola nona Muori Ok Ma vaffanculo Ok Ok Ovvio Ovvio Vediamo un po' Cosa possiamo Combinare Ok Perfetto Perfetto Ok Benissimo Abbiamo capito Perfetto Come funziona Come funziona La cosa No Cazzarola Questa torta Riesce A gestire Sì Ok Posso correre Sui muri E sarà Una cosa Veramente Devastante Wow Wow Ok Wow 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 Fighissimo Ok 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 Perfetto Allora Purtroppo Il video deve terminare Qui per una questione Di tempistica E mi sa che devo Riattivare la missione Perché non ce la farò A farcela In così poco tempo Ehm Tre giri Cento modi per morire Fighissimo Va bene La rifaremo da capo Nel prossimo video Perché dobbiamo Giustamente Risolvere la questione Delle nigua E facendolo anche Con le nostre abilità Noi ragazzuoli Ci vediamo nel prossimo E purtroppo Dobbiamo tagliare così Per colpa dello share Della play Me ne dispiace Ma d'altronde Non è colpa mia Giuri in giurella A frappe Ciao ciao